Oggi noi siamo stati in un museo, il Museo Archeologico Regionale di Antonio Salinas è a Palermo, cioè in Sicilia, e qua ritroviamo tutti i resti che ci hanno dato le antiche popolazioni che erano venute qua in Sicilia, ad esempio i Sicani, i Siculi, i Fenici e la Sicilia è stata anche una colonia greca. Dato che io ho studiato queste cose anche in storia dell'arte, tipo i templi greci oppure il frontone di Atena, è stato molto interessante scoprire queste cose. Infatti abbiamo visto dei resti che erano nel frontone di Atena, proprio nel tempio di Atena, qua il frontone, e poi ho visto anche una stata di Zeus oppure i vari vasi che erano dei greci, il rosso sul nero, il nero sul rosso, eccetera. Quindi è stata molto bella questa esperienza al museo. Grazie a tutti!